Ci troviamo a Mardin, una antichissima città al confine con la Siria. Siamo in Anatolia e il nome stesso della città è aramaico e questo è uno degli ultimi posti al mondo dove si parla ancora questa lingua antichissima, cioè la lingua di Gesù. A miei spalle si può notare la straordinaria magnificenza architettonica e storica di questa città. Qui convivono assieme moschee con antichissime chiese cristiane, cristiane caldee, cristiane della chiesa siriaca che è una delle più antiche al mondo. Guardiamo la magnificenza e la spettacolarità di questa città. Abbiamo appena potuto assistere a una liturgia della chiesa siriana in lingua aramaica. Una lingua che è così musicale che non ha niente a che vedere con le lingue conosciute e parlate. Cioè è una lingua degli angeli, è veramente la lingua degli angeli. Questa Mardin è una città veramente fuori dal tempo, una città eterna. Siamo ai fondamenti della fede, il fondamento stesso, le origini di tutto, la lingua di Gesù, il fondamento stesso dell'esistenza.